L'assestamento del bilancio 2016 del Comune di Rimini, discusso e approvato ieri mattina in Commissione, ha evidenziato l'aumento del 60% delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, dalla previsione di 9.500.000 a circa 16 milioni di euro. Si tratta di una cifra che tiene conto non solo delle contravvenzioni di quest'anno, ma anche del potenziale recupero delle pregresse, nonché dell'accantonamento prudenziale di oltre 2 milioni di euro destinato al fondo crediti di dubbia esigibilità. In realtà l'aumento degli incassi, fa sapere il Comune rispetto alle iniziali previsioni, è di circa 1,1 milioni di euro. Da questo si evince certamente che i tre autovelox attivati da gennaio sulle vie Euterpe, Settembrini e Tolemaide non solo stanno funzionando bene facendo il loro dovere, ma sono diventati una vera fortuna per Palazzo Garampi. Multe che oggi hanno raggiunto il 10% delle entrate correnti, 169 milioni di euro. Scoppia quindi la polemica con la maggioranza. Ieri mattina l'opposizione, infatti in commissione consigliare, ha accusato l'Aggiunta Agnassi di fare cassa con le sanzioni grazie soprattutto ai nuovi impianti. E tra coloro che puntano il dito c'è chi è convinto che il Comune abbia disatteso la sentenza della Cassazione, che ha stabilito come la distanza minima tra l'autovelox e il cartello di preavviso agli automobilisti non debba essere inferiore a 400 metri. Intanto la maggioranza ci ha tenuto a sottolineare che sono fortemente diminuite le multe per divieto di sosta e che in ogni caso Rimini è tra i comuni più virtuosi nel reinvestire i soldi derivanti dalle contravenzioni in sicurezza stradale e per migliorare le strade. Grazie 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 Grazie